In arrivo per la città dei templi, 2.000 vaccini per le strutture turistico-ricettive del territorio. Lo dice il primo cittadino di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, ai nostri microfoni, che non nasconde le difficoltà che ci sono state nelle scorse settimane riguardo la somministrazione dei sieri. Siamo un po' in ritardo, tanto è vero, ieri abbiamo fatto una delibera di giunta perché il centro vaccinale aveva carenza di personale amministrativo, lo abbiamo messo a disposizione noi come ente locale, come abbiamo fatto d'altra parte per le attrezzature, i gazebi, i computer, abbiamo comprato tutto noi. E poi abbiamo avuto 2.000 vaccini per le strutture turistico-ricettive, quindi un ulteriore sforzo, ma questo sarà fatto dopo l'orario del centro vaccinale, quindi fino alle 10 di sera. Siamo un po' in affanno, senza ipocrisie, ma i vaccini li stiamo facendo, quindi possiamo metterci una settimana, due settimane in più, però il peggio è passato.